Benvenuti a questa serata, parliamo del nostro libro pronto se corso nell'ambito ospedaliero. Oggi parlerò con Barbara Walcher e Lisa Profanter per darvi un po' un'idea di che cosa c'è scritto a questo libro e anche parliamo del progetto al quale è connesso questo libro, un progetto dell'Alto Adige. E proviamo un po' di darvi un po' l'essenza di questo lavoro che è stato fatto e di quello che è scritto in questo libro. Vogliamo un po' farvelo capire, volevamo parlare in modo molto conciso e breve di queste cose e poi circa ci saranno due presentazioni un po'. La Barbara parlerà dell'atteggiamento del PSE nel PSE e poi anche della struttura e di come si attualizza questo progetto nella realtà ospedaliero. E possiamo anche alla fine parlare apertamente di questo e dovete o potete fare delle domande e magari andiamo in un dialogo molto vivace. Adesso innanzitutto sono contento che siete qui in così tanti e che oggi possiamo avere questa serata insieme. Anche per noi è un po' un onore poter fare questo e poter presentarvi questo libro. Beh, adesso dico un po' di frasi riguardo a questo libro Pronto soccorso emozionale nell'ambito ospedaliero. Questa è una storia di sviluppo che già va avanti da circa dieci anni che è un progetto che è un progetto clinico che ha ricevuto, il PSE ha ricevuto un posto fisso in questo ambito ospedaliero. Diciamo un po' adesso vorrei parlare con quella persona che ha fondato questo lavoro, che ha fatto tutta questa strada e che il PSE ha potuto essere attuato nell'ambito ospedaliero. È una cosa nuova in questa forma, non l'avevamo ancora mai, questo PSE. E proprio grazie al lavoro iniziale di Barbara di avere questo PSE installato in modo molto fisso nell'ambito ospedaliero. Ha proprio ricevuto un posto il PSE, non è come in tante altre realtà che è quasi 007 James Bond, missione segreta dove usiamo il PSE, ma proprio qui è proprio che si applica il PSE con le donne all'ospedale. Quante volte sento che le persone colpite si sentono da sole e non possono parlare in modo aperto. È proprio, io penso che in questo progetto in Alto Adige, proprio per la prima volta dal punto di vista politico, dal punto di vista amministrativo, anche da parte della direzione, è stato approvato il tutto quanto per dare questa chance ai genitori, ai bebè. Già solo questo è molto impressionante, molto, molto speciale che per la prima volta è successo questo, che la Lisa e la Barba sono riuscite a fare questo, che abbiamo potuto partire col PSE e questo processo per arrivare a questo modello di prevenzione così importante che diventa parte di come si lavora in un ospedale. Cioè, come siete arrivati a questo? Questa è una domanda che tante persone dicono, ma come è potuto succedere? Perché tutti parlano di risparmiare e di togliere i servizi e perché in Alto Adige si apre una porta così dove proprio, diciamo, mi sa che sono 30 consulenti PSE che proprio l'azienda sanitaria parla, la formazione, la supervisione, così e vedo tante colleghe in Germania che già diventano palide sentire questo, cioè sono quasi tipo gelose. Come è potuto succedere questo? E poi adesso parliamo dove erano i punti cruciali per riuscire a raggiungere questo. Adesso non voglio continuare a parlare io, ma vorrei proprio far parlare Barbara, vorrei andare all'interno di questa storia. Non dobbiamo parlare delle basi, del PSE, dei metodi o di come lo applichiamo così. Noi pensiamo che tutti voi avete un briefing in questo senso e perciò a questo punto lasciamo via. Adesso do la parola a Barbara che adesso ci dice qualcosa sull'atteggiamento del PSE e perché forse, perché ha posto proprio nell'ambito ospedaliero. Barbara, dai, facci sentire quello che vuoi dirci. Grazie Thomas e sono molto contenta con voi due, Lisa e Thomas, di poter trascorrere questa serata. Un benvenuto a tutti quelli che sono qui. Sì, questa domanda che tu hai fatto, Thomas, come era possibile che potevamo attuare un progetto del genere? Devo dire, innanzialmente, all'epoca quando siamo partiti col PSE, avevamo ancora, non hanno ancora pensato così in grande. Diciamo che era un processo passo per passo, era uno sviluppo che va avanti fino ad oggi, dove anche noi siamo cresciuti con questo progetto, diciamo. Vorrei un po' prendervi e spiegarvi un po' questa cosa. Magari alcuni non hanno tanta confidenza con l'ambito medico ospedaliero. possiamo un po' vedere insieme cos'è il quotidiano medico all'ospedale, perché tanti forse ancora non hanno ancora tanta confidenza con questo e ci sono certe cose che per noi del PSE sono molto logiche, ma non per tutti sono così quotidiane queste cose. Apro un attimo la mia presentazione PowerPoint. Ecco, sì, qui ho messo questo titolo. Anche noi possiamo in modo diverso il titolo. Anche tu l'hai detto, Thomas, sì, possiamo, diciamo. Qual è il nostro atteggiamento per accompagnare le famiglie all'inizio della vita? Perché è importante il nostro atteggiamento interiore quando accompagniamo queste famiglie? Sappiamo che questo primo tempo in gravidanza, parto e primi anni di vita, questi lasciano una grande impressione, rilasciano delle tracce a questa famiglia e penso che abbiamo proprio bisogno di un nuovo atteggiamento interiore di come incontriamo queste famiglie. E nella seconda parte poi anche ne parlo perché il PSE è proprio ideale in questo caso per poter portare questo negli ospedali. Sì, qui vi ho portato un'immagine di un bebè che è nato e viene toccato da tante mani e preso proprio da tante mani e i genitori sono proprio solo nello sfondo spostati a lato. E questo è proprio, se pensiamo al passato, non sono passati centinaia di anni. Questa era una cosa quotidiana che quando i bambini nascevano inizialmente non veniva parlato col bebè nella pancia della mamma e poi per tanto tempo si pensava che un bebè era un insieme di riflessi e che il bambino, mamma, papà non aveva, questa triade non aveva una importanza. Se adesso guardiamo qual è la generazione che al giorno d'oggi partorisce i bambini sono tante coppie che oggi diventano genitori che sono nati negli anni 90. Elisa ed io abbiamo conosciuto in quegli anni, infine anni 90, il PSE e lì era ancora del tutto normale che, sì, il bonding già si conosceva ma i bambini quando nascevano venivano asciugati e poi voleva tagliato il cordone umbilicale e poi si facevano delle manovre di routine, veniva pesato, venivano fatte cose. Brevemente venivano messi sulla pancia della mamma e poi tipo velocemente dopo, qualche minuto dopo venivano poi lavati, pesati, misurati venivano fatti dei tamponi, dato il vitamin K e il bambino veniva poi vestito e poi venivo messo la mamma in braccio se tutto era a posto e i papà erano un po' sopportati, diciamo non potevano stare lì in questo contesto. se oggi, dato che oggi sappiamo quanto complesso e quanto vulnerabile che queste piccole mosse, questi piccoli momenti tra mamma e papà e bambino sono quando il bebè nasce e che tutte queste interazioni li aiutano ad arrivare al seno della mamma e sappiamo qual è l'importanza che ha il non vestire ai bambini che ci sia questo contatto pelle a pelle che possono dire mentalmente arrivare alla mamma che possono avere le loro manine vicino a sé con questo odore del liquido amniotico quale importanza che questo ha e sappiamo che in tante sale parto non è ancora attuato cioè non si sanno queste cose e diciamo che l'atteggiamento nel campo medico dove ci sia tanta tecnica, tecnologia, tanto sapienza e questo è anche importante e che arrivano anche delle conoscenze nuove e la buona notizia è che però cioè la buona notizia è che viene sempre tutto il sapienza viene attualizzata però una cosa che ogni tanto non si fa è questa interazione sociale che quasi l'ierarchia dice come abbiamo da comportarci nel contatto con le famiglie è proprio un sistema nel quale deve integrarsi la famiglia non è una cosa fatta con un'intenzione cattiva no, l'intenzione è buona per salvaguardare la sanità di mamma e bambino ma si deve dire che spesso queste interazioni sociali tra le persone rimangono, vanno perse diciamo, questo è quello che un po' ci dispiace e che i bambini anche ne soffrono che manca questo contatto proprio tra le persone sì, diciamo un po' l'atteggiamento interiore è una cosa molto imperiore magari se andiamo a vedere questo atteggiamento nel punto empirico se ci sono delle definizioni neanche nella psicologia che questo atteggiamento è come qualcuno reagisce a certe cose che succedono con gruppi di persone e come le valuta e lo fa vedere in modo come è con le sue emozioni e questo atteggiamento si fa anche vedere con un atteggiamento una posizionamento del corpo proprio è proprio una cosa molto soggettiva come uno di noi vede il mondo come vede se stesso e come vede l'altro non è una cosa statica è una cosa che si sta sviluppando e questo è anche una parte che già ne sappiamo che l'atteggiamento può sviluppare come già detto questo stare con i bambini questa cura cioè non dobbiamo fare un viaggio cent'anni fa basta che andiamo a vent'anni fa i bebè avevano tutti il loro lettino e lì venivano curati chi ha lavorato una volta in una struttura clinica o in questo periodo del tempo erano già attivi conoscono questo i bambini venivano raccolti messi su un carello uno vicino all'altro venivano portati al nido e lì facevano le cose che dovevano fare dopo qualche ora ritornavano dalla mamma dove potevano stare 10-15 minuti e poi venivano riprovati al nido adesso come lo vedete anche in questa immagine sì erano un po' lasciati a se stessi diciamo anche in parte al giorno d'oggi grazie a Dio abbiamo una situazione diversa sappiamo quanto importante è il contatto bambini, genitori questo primo incontrarsi questo primo periodo quanto importante è questo e molto spesso troviamo quello che vedete anche qui i genitori che possono tenere il bebè in contatto corporeo e questo roaming in già adesso in alcune strutture funziona così che la mamma si occupa del bebè e anche altre cose possono succedere insieme ai genitori con genitori e chi accompagna questi genitori li prende in modo amorevole alla mano li fa vedere come curarlo ma non sempre è una cosa di routine ma come era all'epoca anche adesso quando la sera gli infermiere fanno il giro dicono magari signora Rossi non è che preferisce dormire e io prendo questo bebè e spesso di notte avviene questo distacco mamma e bebè ma penso è diventato molto logico o ovvio questo roaming in ma diciamo all'epoca quando Lisa e io abbiamo fatto i primi workshop del PSI all'epoca ancora a Kufstein o a Wörgl e dove c'erano le prime formazioni il PSI noi due eravamo in questo periodo eravamo in una struttura clinica non ci conoscevamo ci siamo conosciuti attraverso il PSI attraverso la formazione eravamo attive in due strutture diverse io ero in un ospedale piccolo circa 500 parti all'anno e lì avevo la fortuna di avere un team che aveva un'ottica molto ampia sulla cura della famiglia e il nostro primario appoggeva anche il nostro voler cambiare e ci ha aiutato ma per dire c'era però ancora la fine degli anni 90 era proprio era molto le donne era molto fisso tutto tante donne erano messe a letto fissi a lesso le veniva detto come respirare il bebè veniva messo solo un attimo sulla pancia della mamma e poi veniva portato via per fare le cose che ritenevano importanti questo era uno standard diciamo sì i papà erano si potevano starci ma non erano visti non sapevano neanche quello che dovevano fare era tutto ben strutturato quando mangiare quando dormire quando fare cosa ed era già sempre un po' una difficoltà che i diversi professionisti erano molto divisi molti di voi quando vedono l'ostetricia magari possono ricordarsi chi ha lavorato può ricordare tutto quello che era sopra l'ombelico era ambito dell'infermiera del nido e tutto quello che era sotto l'ombelico era ambito del ginecologo dell'ostetrica o dell'infermiera e se pensiamo solo a questa differenziazione quanto assurda è questa cosa come questa ostetricia è proprio suddivisa diciamo e così anche la famiglia è divisa nel suo accompagnamento professionale oggi abbiamo almeno a volte o sempre più spesso anche le donne possono decidere durante il parto come vogliono muoversi possono muoversi abbiamo un vedere mamma bambina come unità e che la famiglia ha anche un'importanza e la triade mamma papà bambino ha un'importanza e lo sappiamo adesso anche se non in tutte le strutture è molto semplice che i bambini cioè non è detto che i papà possono fare il bonding ma e che non vengono presi alla mano e accompagnati in questo ma si sta cambiando questa cosa qua e anche questo che le mamme possono mangiare quando vogliono vogliono quando possono fare pause quando vogliono e poi questa collaborazione interdisciplinare tra i diversi professionisti e c'è un po' questa cosa un po' più la donna viene vista e poi c'è la parte più pediatrica dove c'è c'è una suddivisa però se si arriva un'intervenzione una periodurale un'operazione c'è anche l'anestesista allora ginecologo pediatra anestesista team op c'è un grande team e ci sono tanti professionisti e lì ci tocca un po' vedere come può essere la collaborazione non è sempre facile i papà magari spesso da contare i cesari non sono benvenuti in sala operatoria questo spesso significa che le mamme spesso non hanno una persona di confidenza in sala operatoria questo può essere un fattore di stress per le mamme ma come già detto c'è un voler cambiare c'è un po' un sapere di questo questo significa questa interazione a diversi livelli è desiderata diciamo e in tanti posti viene proprio un po' aiutata è fatta adesso devo dire che anche con le mie colleghe ho sentito iniziamente negli anni 2000 mi dicevano dicevano ma è veramente possibile fare un accompagnamento individuale noi abbiamo delle procedure standardizzate e diciamo abbiamo questa competenza professionale e se andiamo nell'individuo non è che perdiamo un po' la nostra professionalità c'era un po' questa discrepanza questa insicurezza e vogliamo sempre la qualità e migliorare la qualità e proprio queste cose standardizzate sapete assicurano a noi il quello che facciamo in cose in situazioni di emergenze è giusto che abbiamo questi standard per dare sicurezza però con tutte queste cose standardizzate queste procedure ben precise si può lavorare in modo individuale con le donne diciamo dobbiamo anche vedere i propri valori di questa famiglia e poi anche in questo tempo dove abbiamo così tante culture diverse di riconoscerle e di vedere i bisogni individuali che la famiglia può decidere da sé e di vedere le competenze della famiglia non si tratta di uno o l'altro ma entrambi possono esserci le cose standardizzate e vedere l'invituo questa standardizzazione e vedere l'orientamento al soggetto possono essere presi e messi insieme questo sì questo significa soprattutto però di parlare tanto comunicare con tutti quelli che sono coinvolti in questa cosa e dire ok io rimango in contatto andiamo in un dialogo costruttivo dove possiamo trovare un insieme e questo forse era un aspetto che hanno portato che l'attuare il PSE era possibile Lisa io noi ognuna nella sua struttura abbiamo sempre cercato il colloquio non era sempre facile ci siamo anche noi scambiati a vicenda e rafforzati a vicenda anche con te Thomas parlando dal punto di vista professionale e poi abbiamo a diversi punti della irarchia abbiamo bussato ha parlato col primari abbiamo parlato con i direttori con con la direzione infermeristica e non andare a dire ok adesso abbiamo bisogno questo e quest'altro abbiamo bisogno di questo personale in questa stanza ma di dire ehi ma dire questo abbiamo e questo ci immaginiamo come sarà il futuro e poi dobbiamo parlarne di questo Lisa ne parlerà in modo più esplicito proprio in questo colloquio costruttivo questo tenere attivo il dialogo anche quando è difficile o quando qualcuno ti dà un no e sicuramente è una cosa che ci ha portato al punto dove siamo adesso quello che io penso nell'atteggiamento è importante per noi come professionisti è che che non non ci mettiamo sopra la famiglia che non abbiamo questo reartico dall'alto io dico quello che è giusto per te mamma bebè papà ma che anche qui anche ci allontaniamo un po' da questo perfezionismo o da questo questa immagine sterile che abbiamo magari di noi come professionisti e magari che abbiamo più umanità e che più siamo amicchievoli degli errori e che magari sempre di nuovo ci spostiamo un po' dalla nostra zona comfort vi ha partato qualcosa che ha detto una citazione fallo così bene come fallo bene come lo puoi finché lo sai meglio e quando lo sai meglio lo fai meglio e questo è un po' più in alto questo non è sempre più in alto e sempre meglio ma questo è proprio un po' fermarsi riflettere e vedere dove famiglie hanno bisogno di un alteggiamento da parte nostra e però sempre mantenendo la nostra professionalità e poi sempre andare nel colloquio nella riflessione perché noi sappiamo abbiamo sempre un effetto sul nostro di fronte e proprio se accompagnano e proprio le famiglie all'inizio della vita queste famiglie sono un po' come una spugna tutto quello che va come rafforzante e indebolente viene proprio succhiato un po' e ha un lascia una traccia allora anche a punto di vista corporeo ormonale e così e anche la donna e il bebè dobbiamo mettere a disposizione dei strumenti cioè devono prendere quello che hanno a disposizione per poter andare in contatto con questo nuovo bebè e i nuovi genitori e noi che siamo intorno a questo parto magari anche noi come professionisti lasciamo proprio una traccia importante nella loro vita e che possa sempre riuscire che noi continuiamo a svilupparci dobbiamo essere disponibili a voler svilupparci a voler andare avanti a voler cambiare è un processo personale proprio e perché il PSE è così importante proprio il punto chiave per me all'epoca era molto un punto importante nella mia formazione e quando ho fatto questa autoriflessione e dato che l'autoriflessione nel processo personale parte della formazione e anche la supervisione era una parte molto importante nella formazione per me come infermiera pediatrica era proprio una sfida nuova che era e anche oggi ancora se ci penso dopo 20 anni che lavoro con famiglie le accompagno quasi 30 anni mi cento un po' già in formazioni alla scuola nel campo medico o infermieristico o estetrico che formazione sul non non fanno parte della formazione medica la supervisione il processo personale così e questo mi dispiace perché si accompagnano persone in una fase molto sensibile della loro vita e che non è una routine di quello che proprio succede e questo sviluppo nel nostro atteggiamento è proprio quello che è l'essenza del nostro lavoro del PSE in questi tre livelli proprio dare le informazioni e poi l'altro campo è il processo personale e poi la supervisione è questa parte di riflessione di supervisione perché questa qualificazione che abbiamo in più questa del PSE porta proprio a cambiare il proprio atteggiamento che si incontra le persone in modo diverso il presupposto per questo è proprio la disponibilità di volerlo fare significa anche di uscire dalla zona comfort a quello che è nostro conosciuto e chiedersi che mettersi in questione ma in modo molto amorevole e questo non è sempre così facile ma e forse anche se proprio le resistenze che abbiamo incontrato all'inizio diciamo non erano sempre facili il PSE come già detto grazie a questa formazione che è più ampia mette i presupposti per poter fare questo questo è un po' quello che ha incentivato Lisa e me a fare andare avanti e poi quando abbiamo fatto queste prime piccole intervenzioni all'inizio le abbiamo attuate nel contesto clinico che eravamo molto entusiaste quanto era possibile quanto si possa cambiare senza metterci troppa energia e quanto quanta differenza facevano queste piccole intervenzioni nelle famiglie e quanto quanta bontà hanno portato in questa famiglia nel lungo andare della sua vita sì questo un po' questo per me un po' cos'è questo qual'è il quotidiano medico il sapere e atteggiamento queste due cose che poi vanno insieme diciamo che sono delle cose importanti in quello che facciamo Thomas grazie mille Barbara per questo primo giro proprio questo che era quello che era importante quello cambiare il proprio atteggiamento la posizionamento interno nel contesto clinico ma sicuramente nella discussione magari ne parleremo perché ha importanza e avere una vedere il soggetto e non solo tutto dal punto di vista oggettivo e di portare questo nel contesto clinico anche di viverlo adesso sono curiosa di cosa ci racconta Lisa forse ci racconta un po' cioè lei ci racconta un po' della cosa concreta come viene attualizzato nel contesto clinico com'è in alto adige di quello che abbiamo sentito che abbiamo sentito questo modello che abbiamo sentito un po' di barbara adesso Lisa ce ne parlerà forse più in dettaglio e poi farà anche vedere una powerpoint Lisa è il tuo turno puoi parlare tu adesso Lisa forse per quelli che non conoscono Lisa Lisa lavora nell'ospedale di Bressanone attiva lì in sala parto e sicuramente è una delle persone più importanti ricordanti importanti per quanto riguarda il PSE lì e adesso brevemente magari può raccontarci come è stato attualizzato fatto tutto nell'ospedale e vedremo cosa succede nell'ospedale Lisa buonasera a tutti quanti da parte mia a tutti coloro che ci ascoltano grazie per l'invito Thomas e sì io adesso vorrei questo PSE nei ultimi 13 anni come modello psicoterapeuta corporeo psicoterapeutico vorrei vorrei un po' raccontarvi come è andata negli ultimi 13 anni a portare questo a implementare questo nell'azienda sanitaria dell'Alto Adige sia nell'accompagnare i genitori nell'accompagnarli nella crisi ma anche nel lavoro centrato sul bambino traumatizzato ma prima vorrei darvi qualche dato per farvi capire come è successo tutto un po' di informazioni un po' di informazioni l'azienda sanitaria dell'ospedale di Bolzano fanno parte sette ospedali di cui in cinque ci sono sale parto e poi ci sono venti distretti nell'azienda sanitaria dell'Alto Adige e quelli fanno un po' il pre e il post parto l'accompagnamento ci significa che per le persone che sono a casa è di posizione questo distretto con le infrastrutture che servono e la meta quello che volevamo raggiungere già dall'inizio è che che questa azienda non voleva solo singoli posti dove c'era il PSE ma volevano una cosa che era più ampio una rete diciamo un'offerta che era qui per promuovere il legame per aiutare i genitori che possa lavorare sulla prevenzione per dare salute ai bambini era previsto per questa offerta di cura era previsto un team interdisciplinare cioè tutti tutti quelli che erano nella struttura dell'ospedale nei distretti e tutti coloro che lavorano nell'ambito mamma-bambino diciamo e l'ospedale è soprattutto qui per dare terapia acuta ma anche la riabilitazione e anche per nell'ambito palliativo e per tutti questi ambiti nel frattempo non già dall'inizio ma nel frattempo in tutti questi ambiti è stato implementato un'offerta del pse o del concetto del pse è stato installato allora il pse accompagna gravide è previsto nell'accompagnamento delle gravidos soprattutto nella prevenzione ed è incluso nel progetto intorno al parto che è un progetto dell'azienda sanitaria dell'Alto Adice che per donne che hanno una gravidanza fisiologica è un po' per le donne che hanno gravidanza fisiologica che possono essere accompagnate dall'ostetrica e lì viene anche offerto il pse anche nelle sale parto viene implementato il pse noi di media abbiamo 4.900 parti gran parte sono dei parti sono negli ospedali e di questi part 4.900 sono massimalmente 5.60 parti a domicilio anche nel postparto nel puerperio e dopo fino al primo anno di vita è stato implementato il pse e qui viene anche offerto di andare a domicilio la consulente va a domicilio e noi ci occupiamo anche o siamo anche nell'ambito palliativo una piccola parte di noi accompagna famiglie con delle malattie croniche terminali insieme al pse così adesso avete un po' un'idea dove viene offerto il pse e quanto si deve pensare in grande per dare un'offerta un po' più ampia in tutto il territorio e a tutti a tutta la gente diciamo come ha potuto succedere questo e questo è proprio adesso un periodo di 13 anni che è un periodo molto lungo e nel primo periodo in questo preparazione diciamo la cosa più importante l'entusiasmo che c'ero dall'inizio eravamo proprio solo 4 5 consulenti pse noi siamo partite Barbara io e poi nel 2011 sono partite 7 consulenti pse con una grandissima motivazione e voglia di portare questo loro nuovo sapere nell'ospedale sono andati alle loro coordinatrici a collaboratrici quanto sarebbe bello di portare queste intervenzioni corporee nell'ospedale e poi di implementare nel quotidiano questo il corpo e questo aiutare il soggetto e di aiutare il legame e di fare proprio portare questo pse negli ospedali e cercavamo proprio di chi ci aiutava di chi ci aiutava e poi abbiamo successo perché chi era a capo sentiva che noi non non ci arrendavamo e ci ha detto ok fateci vedere esattamente come volete fare questo e mi ricordo 2013 2014 abbiamo presentato un concetto minimale di due ore alla settimana dove abbiamo invitato gravide in ambulatorio che rimario si erano decise per un cesario elettivo dopo un parto traumatico chi era a capo ha detto ok potete iniziare con questo provate a vedere di che cosa hanno bisogno queste donne magari voi con il pse riuscite a far cambiare l'opinione di queste donne forse una o l'altra vorrebbe fidarsi a fare a iniziare un travaglio e magari pensare se mai a un taglio cesario secondario e non avevamo neanche poche clienti che accompagnavamo donne che avevano avuto parti o esperienze di parto traumatiche e si vedeva che non erano sempre le intervenzioni che causavano questo trauma ma erano delle cose di comunicazioni conflitti dove le famiglie non erano viste nel loro bisogno nella loro emergenza e dove è successo un distacco e che e che non potevano più svilupparsi i processi fisiologici e questo abbiamo fatto un anno abbiamo raccolto dei dati era molto hanno dato un grandissimo supporto vedere che chi era capo ci dava un sì hanno visto sì questo potrebbe essere qualcosa per noi ed è stato dato avanti alla direzione alla direzione infermeristica e questo poi ha portato che dalla direzione infermeristica è arrivato il mandato a un lavoro di gruppo e questo lavoro di gruppo l'ho coordinato io ancora con altri quattro consulenti PSE dei diversi distretti e è anche una coordinatrice faceva parte e nell'ambito di 6-7 mesi abbiamo elaborato un concetto dove in dove abbiamo visto in dettaglio quello che vogliamo e questa cosa interna ha ricevuto il nome procedura dell' azienda sanitaria diciamo come titolo implementazione del PSE nell'azienda sanitaria dell'Alto Adige e questo e questo cosa interna interna fanno parte diciamo il PSE l'elemente è quello che ci aspettiamo dal PSE veniva è stato deciso in modo molto chiaro il emette che volevamo raggiungere raggiungere e dal punto di vista organizzativo è stato chiarito come le informazioni arrivano ai genitori e quali flyer erano necessari un fatto molto importante che noi in Alto Adige siamo trilingue perciò dobbiamo innanzitutto almeno avere dei documenti in due lingue flyer in due lingue e questo è un lavoro in più anche questo è stato chiarito la infrastruttura le stanze che erano previste era specialmente importante definire quale offerte volevamo dare alle mamme ai bambini ai genitori Barbara mi sta dicendo adesso mi sa che c'è e queste offerte che diamo che volevamo dare per noi erano molte concordanti proprio perché proprio questo mandato era di andare nella prevenzione scusate non mi ero accorta che la powerpoint non ve l'avevo aperta adesso Barbara mi ha aiutato ad andare ad aprirla scusatemi questo proprio questo mandato del quale ho già parlato cosa c'era in questo mandato diceva proprio quello che c'era da fare e la procedura dell'azienda era la cosa più importante che avevamo a disposizione e grazie a questa procedura dell'azienda dal 2016 poi ogni ospedale e ogni distretto era si faceva si faceva la richiesta di applicare il PSE ma nel loro ambito di possibilità diciamo e c'erano delle differenze che c'erano delle differenze perché noi volevamo dare delle offerte che erano minimalistico ma che copriva tutto l'Alto Adige perciò avevamo bisogno di più consulenze PS più consulenti PSE c'era bisogno di più consulenti e e facevamo delle riunioni dove presentavamo il PSE e abbiamo cercato di incentivare altri colleghi di fare la formazione questo ha avuto successo e abbiamo avuto più persone nella formazione perciò potevamo instaurare un'offerta minimale in Alto Adige e garantire dei corsi basic bonding in gravidanza e corsi di basic bonding per neomamme fino al primo anno di vita dei bambini e poi abbiamo anche organizzato consulenze individuali nelle prevenzioni con contatto attraverso legame ma anche nella consulenza in situazioni di crisi e queste offerte sono state accolte molto velocemente c'era un grande eco nella popolazione forse anche perché era gratuito era offerto gratuito significa le donne le famiglie non dovevano pagare per le sedute individuali per i corsi e quando offrivamo consulenze individuali erano circa tre fino a cinque sedute perché la cosa più importante è promozione del legame e la stabilizzazione questa e anche la differenziazione e la il nostro limite diciamo che dovevamo rimanere nella prevenzione e nella promozione del legame e poi se mai voleva inviata a servizi psicologici o psixiatri nella clinica perché all'inizio c'erano un po' delle discrepanze cosa fate voi consulenza nelle crisi questo è il nostro ambito però poi ci siamo posizionati col PSE molto bene è diventato molto capibile che queste intervenzioni corporeo per rafforzare promuovere le glame e questa sensibilizzazione dei genitori per avere più attenzione riguardo ai bambini e le offerte di legame attraverso legame o accompagnamento nello stress o lavoro corporeo e di dare informazioni sul legame e e e questi altri queste altre figure professionali hanno poi accolto visto il PSE come una cosa additiva e accompagnatoria al loro lavoro in modo molto positivo l'hanno accettato anche da parte dei psichiatri e psicologhi l'hanno dato loro sì però questa differenziazione era molto importante poi i consulenti PSE accompagnano anche gli aiuti precoci che è un altro progetto dell'Alto Adice e anche lì il PSE è una grande parte in questo mi sa che ormai ho già detto tutto una delle altre basi molto importanti o passi che erano stati diveniti era questa formazione di base del PSE noi volevamo che il PSE che non era che non solo i consulenti PSE davano le informazioni del PSE ma per noi era molto importante che tutti quelli che lavoravano nell'ambito madre e bebé avevano informazioni di base sul PSE del concetto PSE e lì poi Barbara insieme a Thomas poi Barbara 2012 mi sa che Barbara è uscita dall'azienda sanitaria è iniziato a lavorare come libera professionista però grazie a Dio a questa base del promuovere il legame diciamo lei ha poi creato queste formazioni di base e ha proprio creato delle dispense dei criteri che tutti i collaboratori nell'ambito ma che lavorano nell'ambito mamma bebè possono raccontare magari anche degli strumenti molto facili venivano proposti e questo sapere di base è stato accolto molto bene a chi partecipava cioè all'anno Barbara e io facciamo circa formazioni circa quattro fino a sei proposte di questa di questa formazione a base che è di quattro giorni e ci sono circa sedici diciotto partecipanti a ogni formazione base ostetriche infermieri neonatologi infermieri della neonatologia psicologhi ergoterapeute fisioterapeute nella riabilitazione nella riabilitazione dei bambini cioè un ambito molto un spettro molto ampio delle delle figure professionali e cosa raggiungiamo con questo raggiungiamo che se famiglie arrivano nell'istretto arrivano all'ospedalo che da tutti i collaboratori ricevono l'informazione che c'è questa proposta di pse di consulenze così possono dare chiunque può dare queste informazioni e se questi collaboratori vedono che c'è una situazione di stress molto elevata o un bisogno particolare di una famiglia possono se vedono che c'è bisogno possono proprio proporre alle famiglie di fare delle consulenze gratuite individuali di pse nell'ambito ospedaliero e poi quando strumenti di base come la respirazione autolegame concetto dell'autolegame dare informazioni questo viene poi cercato da tutti i collaboratori di dare informazioni di base e già molto presto questa promozione del legame può essere promossa diciamo può essere ci si può parlare non è che si deve parlare di un problema non siamo qui per donne che hanno probleme ma è un proprio una cosa informazioni normali che possono essere date avanti a tutti e con questo abbiamo fatto un'esperienza molto buona famiglie prendono queste offerte o questa le piace hanno partecipato panno volto volentieri alle nostre offerte che diamo nell'ambito ospedaliero questa offerta va anche in questi progetti dell'alto adige che sono gli aiuti precoci e questo intorno al parto e anche nel palliative care medici e psicologi vengono anche coinvolti anche quelli che sono nel ospedale stesso ma anche quelli che sono nei distretti vengono coinvolti in questo e vogliamo creare una consapevolezza nel personale e questo aiuta molto la prevenzione e grazie che i collaboratori dell'ospedale vengono pagati o la formazione viene pagata anche le ore vengono riconosciute l'iscrizione viene pagata e la ricertificazione viene pagata ma anche così il collaboratore deve dare questo che sa e quello che ha imparato di applicarlo cioè i collaboratori devono applicare quello che hanno imparato nella formazione nel lavoro con le famiglie qui vedete una lista di quante consulenze IPS avevamo all'inizio nel 2016 delle quali avevamo bisogno per dare questa offerta minimale in alto adice qui vedete da questa parte gli ospedali dove i parti ci sono quanti parti ci sono questi colori qua giallo arancione a seconda dei parti veniva detto quanti consulenti e poi c'era questo modello di prevenzione che è stato devenito e qua vedete ancora una volta la lista di cosa veniva offerto qui la cosa speciale per permettere a questo PSE che poteva essere installato le condizioni erano che non si creava un servizio nuovo o che era a disposizione un contingente di tempo in più ma che i coordinatori o chi organizzava la coordinatrice doveva capire dove mettere chi al momento e chi aveva le qualificazioni del PSE e doveva darle giorni liberi tipo per poter fare il PSE o applicare il PSE e ciò per dare una continuità nel servizio questi erano i nostri flyer che avevamo in due lingue e attraverso la comunicazione di tutti i servizi con tutti i servizi intendo questa cosa interdisplizzinare che tutti i collaboratori nell'ambito che tutti nell'ambito madre che lavoravano nell'ambito bambino lavorano hanno questa formazione di base sono quattro anni dove che si chiama strade per commuovere il legame e poi c'è la rete delle consulenti PS o basic bonding chi ha le basic bonding e poi chi è le coordinatori fanno hanno un ruolo importante anche e tutte le coordinatrici dei diversi servizi hanno delle responsabilità anche sia in ambito ospedaliero che nei distretti sanitari e le famiglie possono approcciare o prendere questo servizio e beneficiare di questo servizio e vedete vedete un po' che i corsi subito abbiamo fatto questi corsi PSE queste sedute individuali ma non subito in ogni ospedale lo vedete qui su questa slide in ogni distretto era un po' diverso a Brunico magari non c'era niente perché non c'era una consulente PSE a Brunico perciò non venivano fatte consulenze né corsi perciò queste offerte perciò chi da Brunico voleva avere questo servizio doveva venire a Bressanone all'epoca diciamo nel 2016 non c'erano i corsi Basic Bond a Brunico e poi i corsi Basic Bond erano soprattutto a Merano e a Bolzano qua in questa fase di transizione diciamo il punto importante era di creare nuove consulenti PSE per dare più continuità dal 2018 poi c'era la conclusione iniziò la conclusione del progetto con l'implementazione di tutti i diversi distretti avevano consulenti PSE e le proposte di corsi erano sempre un po' meno c'era le consulenti che diciamo avevano questa grande rispetto o forse anche qualche paura iniziare i corsi di gruppo e poi abbiamo migliorato questo e abbiamo fatto delle sedute nel team e messo a disposizione delle slide proposto ospitazioni così che la loro sicurezza cresce questo poi anche si è telabilizzato e poi nel 2019 sono stati fatti più corsi questo lo vedete qui e le sedute singole anche sono aumentate e qui sempre raccogliamo dati continuamente è una nuova meta nuova che ci siamo messi nell'azienda e che è la più grande sfida diciamo e la documentazione ogni quattro anni c'è una revisione di questa procedura dell'azienda e quest'anno c'era questa revisione siamo riusciti a etablizzare una documentazione e grazie che sapevamo le indicazioni delle sedute singole e grazie alle diagnosi che sono state fatte abbiamo poi creato delle diagnosi di cura del PSE qui le vedete elencate ci sono otto diagnosi che sono proprio per noi e se ci sono queste diagnosi queste diagnosi PSE noi poi facciamo la documentazione e poi facciamo delle mette che dobbiamo ci mettiamo delle mette descriviamo bene le intervenzioni PSE che applichiamo questi piani vengono poi inseriti nel computer che tutti possono vedere questo anche per i collaboratori quando ci sono le consegne perché c'è bisogno dei consegni a volte grazie a questo tutto diventa più trasparente veniamo riconosciuti meglio e questo ci rafforza anche nella assicurazione della qualità e noi abbiamo di nuovo abbiamo un miglior riceviamo più veniamo visti in modo diverso e valorizzati dalla direzione infermeristica ospedaliera questi sono un po' i dati che posso farvi vedere ancora una cosa 2023 avevamo 34 collaboratrici che avevano la qualificazione PS e vedete quale professione di base hanno e dove lavoravano questi e questo che volevamo far vedere che in tutto l'alto adige ci siano delle consulenti PS e qui vedete ancora una statistica che come siamo partiti nel 2016 qua sotto lo vedete a Bressanone con le consulenze individuali all'epoca erano 64 e adesso nel 2023 sono 240 e abbiamo un'offerta continua di corsi basic bonding per gravide e mamme dopo il parto 5 all'anno perché abbiamo una giornata fissa del PSE che dalle 8 alle 17 riusciamo a fare 3 fino a 5 sedute individuali e poi anche i corsi e da queste cose risulta la statistica ok adesso ho fatto una cosa c'è una spiegazione veloce di quello che proponiamo e come è stato instaurato questo e adesso sono a disposizione per eventuali domande molto volentieri e tante grazie sì Thomas adesso parla Lisa forse puoi farci vedere le tue slide ah puoi togliere le tue slide sì adesso è molto importante quello che tu hai raccontato tutti questi aspetti del PSE questa documentazione ufficiale che sono parte della documentazione ufficiale e questo magari è importante sottolineare di tutto il lavoro PSE che viene fatto che va anche nella documentazione della della clinica dell'ospedale è proprio è un dovere documentare tutte le intervenzioni PSE è anche necessario non è una cosa tipo undercover questo è forse il punto decisivo sì Lisa sì questa cosa è molto importante decisiva perché noi come consulenti PSE dobbiamo posizionarci in modo molto chiaro il nostro mandato interiore è molto importante dobbiamo sintondaggiarci con le famiglie dobbiamo dobbiamo una meta concordata da tutte le persone e poi si ha un risultato e però viene anche descritto quale intervenzione PSE è stata fatta c'è un'evaluazione la meta è stata raggiunta o è bisogno inviare a qualcun altro questa persona e ognuno può avere vedere questo Thomas ok ancora una domanda importante anche a Barbara non avete parlato tanto però io lo so però penso che in un processo del genere non è senza resistenza o cose che non funzionano diciamo un po' così questo lavoro sul corpo al letto dell'ospedale dell'ospedale com'era questa cosa come avete dovuto lavorare nei team nelle posizioni diverse quanta resistenza avete incontrato come siete riusciti a andare avanti e avere successo e che poteva svilupparsi e andare avanti questo pse nell'ambito ospedaliero forse inizio io e poi magari Lisa tu puoi aggiungere quello che io ho dimenticato all'inizio quando quasi lavoravamo incognito andavamo a fare la nostra missione con le famiglie all'inizio c'era c'era un po' le colleghe che ci guardavano un po' male diciamo perché noi andavamo alle famiglie era un po' un'altra noi avevamo un altro atteggiamento un altro posizionamento quando andavamo a parlare con le famiglie e questo portava che anche nel team ma cosa fate voi e perché lo fate e questo non è mica il nostro lavoro erano le cose che ci sentivamo dire e proprio grazie a queste formazioni di base delle quali Lisa ha parlato era possibile rendere trasparente il nostro lavoro renderlo ufficiale e tutti vedono che la gente sa cosa fate e sono curiosi e volevano accompagnarci volevano accompagnarci volevano vedere cosa facevamo noi e questo è grande resistenza che è arrivata proprio dal nostro team un altro aspetto molto frequente che da dove prendiamo il tempo già che facciamo così tante cose documentazione ci sono tante cose che dobbiamo fare ma abbiamo troppo poco personale da dove prendiamo il tempo perché proprio il nostro lavoro è proprio che ci fermiamo un po' con le famiglie e teniamo le mani non interveniamo diciamo ma noi rafforziamo queste famiglie e questo tuttora è una domanda molto frequente perché c'è bisogno inizialmente serve più tempo però nel trascorrere del tempo e nel andare avanti del tempo la mamma sa sono capace riesco e sono già riuscita una volta quando qualcuno si è preso tempo per me mi ha accolto e accompagnato lì dove mi ha accolto da dove sono mi ha accompagnato questa persona e questo poi ha avuto proprio come delle onde nel futuro proprio queste perpere hanno meno bisogno di essere aiutate perché già hanno sentito questo rafforzamento e un terzo argomento nella resistenza che abbiamo incontrato era questo questo dire però noi non siamo psicologi questo deve farlo lo psicologo questo proprio questo questo lavoro con la psiche della persona non è non fa parte della nostra competenza ci veniva detto e qui abbiamo col ps e dice già la parola allora pronto soccorso emozionale che questo lavorare con le emozioni o espressioni di emozioni che non è solo ambito del psicologo ma che questo è proprio che è nostra competenza di noi tutti è proprio quello che i genitori hanno bisogno di imparare come vivere con queste emozioni loro dei bambini e le loro stesse emozioni e questo lo possono imparare dalle persone che lavorano con loro questi sono questi aspetti più importanti della resistenza che tuttora è un argomento lisa non so se vorresti dire qualcosa che ti viene in mente o che ti che incontri lisa sì questo all'inizio soprattutto dove non era chiaro in che forma dove c'erano domande proprio che non avevano risposta proprio diciamo quello che cosa fate esattamente e poi con le formazioni di base anche secondo me è la cosa più importante che è lì andiamo ad accogliere coloro li accogliamo dove sono che rendiamo il nostro lavoro trasparente li prendiamo li invitiamo diciamo puoi venire puoi vedere quello che faccio puoi dare un feedback diciamo e facciamo e anche feedback da parte dei clienti che sono con e anche riconoscere e valorizzare quello che viene fatto e anche parlando con i medici alla visita quando vanno al letto della paziente è successo che donne che hanno disdetto gli appuntamenti per il taglio cesario primario perché hanno detto che ho avuto una consulenza e vorremmo provare il parto spontaneo abbiamo cambiato idea sono singole cose non si può neanche dire in modo molto esatto una cosa esatta erano tanti aspetti che la comunicazione è una delle cose più importanti la comunicazione parlarne comunicare non nascondersi farsi vedere far vedere quello che si è capace di fare proprio questi questi strumenti basati sul corpo di applicarli io posso dirlo dalla mia prospettiva che da ogni se da una parto alla fine arriva un medico una collega quando chiamiamo un medico al parto loro vengono a guardare quello che noi facciamo consulenti pse lavorano in modo diverso vedono non solo la mamma ma anche il bebè il partner noi facciamo sia lavoriamo come modello siamo un modello e poi qualcuno forse qualcuno ha voglia di imitarci e questo fa un altro un po' stato d'animo un altro atteggiamento in tutta il tutto il complesso che è un'altra atmosfera anche noi magari abbiamo un atteggiamento diverso con con le colleghe forse perché ci sono sempre di nuovo conflitti anche diciamo e noi usiamo questi queste basi verbali del pse quelle che tutti conosciamo e sappiamo che sappiamo che rimaniamo in contatto con noi stessi e la promozione del legame è più facile e questa sapienza ce l'abbiamo e questo lo facciamo vedere nel nostro atteggiamento e questi modelli e proprio sono tutti vorrebbero magari anche imitarci e se di più gente lo fa così è che è come un un sasso che si butta nell'acqua e si vedono i cerchi intorno e questo lo posso raccontare della mia esperienza degli ultimi anni ok Thomas grazie Lisa io penso adesso che sia stato capito che che la motivazione e la contentezza nel vissuto professionale è molto importante vissuto personale adesso vorrei usare il tempo che abbiamo ancora per dare la parola a chi ci ascolta e chiedervi di fare delle domande per andare in una discussione aperta che magari ancora possiamo sentire le vostre domande o i vostri interessi e poi forse possiamo andare in un colloquio aperto sì avete domande o magari salutate o falto dai dite qualcosa se avete qualcosa da dire sì Cristian volevo o proprio avevo un colloquio con la collega che al fine settimana che ha fatto autocoscienza il fine settimana e ha vissuto come lei dopo il parto non che ha vissuto non il contatto con la mamma ha vissuto come era in una stanza vuota come in un vacuum e poi era tenuta anche dal punto di vista corporeo poi ad un tratto è andata nel niente e poi è andato in uno shock dove si è ritirata del tutto dove ha messo in tensione a braccia e gambe che dove raccolta fredda e si è ritirata sì c'era un trauma dopo il parto che lei ha vissuto e non è quello che quello che non è quello che voi avete sviluppato col PS è un po' è un po' interessante vedere dalla prospettiva del bebè quanto volevo puntualizzare un po' dire quanto inumano era la cosa di una volta e la mia motivazione di vedere quello che voi avete fatto fino adesso grazie Thomas dice proprio questo questa prevenzione di neurosi diciamo se volevamo chiamarlo così che quando che la gente lo riceve senza doverlo pagare proprio quando succede quando ci sono successi parti difficili quando persone si sentono insicure proprio qua che hanno questo aiuto sì Nadine tu hai una domanda Nadine è possibile avere le slide della powerpoint dato che io non ne ho non posso dire questa cosa dice Thomas sì però vedo che Barbara dice di sì possiamo inviarvele Giulia mi sa che abbiamo tutti i dati anche come pdf giusto Lisa va bene ok sì va bene grazie sì facciamo sì altre domande forse ancora se no faccio io forse delle domande sì dimmi io avrei una domanda io sono in un ospedale in Germania sono più di 3000 parti e perciò anche tante magari vissuti traumatici dovuti a prematurità o sanguinamenti o sì tante cose avremmo un grande bisogno di sopporto questi genitori ma la mia domanda concreta è che c'è una home page del PSE e c'è anche l'offerta in Germania ma come riusciamo a metterli nella clinica nell'ospedale come come si può fare la la cosa dal punto di vista burocratico pagamento e così per poter offrire questo ai nostri genitori adesso parla Barbara se posso rispondere molto brevemente a questo questo che sono quale è un po' quello che richiede la clinica quali sono i presupposti per finanziare questa cosa quello si deve vedere con l'ospedale stesso quello che noi potevamo convincere questi che la prevenzione è la base di tutto questo e questo modo per entrare diciamo nella clinica e che parlando col management della clinica è che dalla nostra esperienza anche importante che volevamo avere un progetto non è che che loro fanno ci pensano di come farlo ma noi dobbiamo cioè chi è a capo della di questa struttura non si pensa come applicare il PSE ma siamo noi che vogliamo applicarlo che dobbiamo vedere come applicare questo e c'è ci sono le consulenti all'altaltamento che hanno dei contratti con l'ospedale e qui si potrebbe prendere gente che è già formata e portarla all'ospedale o si manda gente che lavora all'ospedale che deve fare la formazione e poi questa funge come modello però ci vuole un po' di tempo finché viene proposto in ambito molto ampio però questa non è una cosa che si fa in due anni è una cosa che si fa passo per passo la cosa prima la cosa importante primaria è che proprio di prendere quelle persone che hanno già questa formazione di implementare quello nell'ospedale e poi di mandare gente a fare la formazione però il management deve essere convinto e chi paga deve essere convinto e deve proprio concretamente fare un cambiamento il management non so se questo dà risposta come viene pagato questo è molto specifico è molto diverso e non so quale possibilità che ci siano in Germania posso dire ancora una frase dice Thomas vorrei ancora dire che anche in alto adige che è molto importante dato che le consulenti PS già erano attive nell'ambito ospedaliero e è in sorta l'idea e mi sa che all'inizio era Bressanone sì giusto Bressanone e poi è stata pianificata un'implementazione del PS e poi c'era un punto che non abbiamo parlato stasera che hanno fatto una formazione di una giornata all'ospedale dove abbiamo presentato i concetti del PS e subito dopo diciamo c'erano 50 persone a questa formazione a questo congresso di un giorno e abbiamo mandato un'evaluazione cioè era il primo congresso e poi c'era un'evaluazione interna di che cosa dicevano le persone che erano state presenti e questo ha portato che tante persone hanno detto è proprio quello che ci manca di quello di cui abbiamo bisogno e magari altri progetti che ci sono si può veramente commettare c'è questo processo dal basso anche dalle persone che erano in questa cosa che quelle hanno detto sì io voglio io vorrei installare questo è un fattore molto importante che le persone sono state coinvolte così che non l'hanno visto come mamma mia cosa succede ma o qualcuno invade le mie competenze o come uno stress o così non l'hanno visto così sono stati molto entusiasti è una cosa sistemica importante non è dall'alto verso il basso adesso lo fate e appunto e basta state zitti che potrebbe anche succedere ma che è un po' una cosa che è un processo con dialoghi che è molto importante e che poi è diventata una cosa così grande non avevamo intuito però forse qua c'è ancora una domanda Beate Lisa parla no qualcuno una buona una buona idea sarebbe di invitare che voi venite qui a presentare questo proietto perché rende curioso è quello che potrei immaginare che si potrebbe applicare in collaborazione con la neonatologia e questi ci sono tanti bisogni propri lì si potrebbe bene parlarne forse una volta Lisa vorrebbe dire una cosa ancora a Bolzano c'è un ospedale di primo livello con una neonatologia e lì è pianificato che il PSE possa iniziare anche nella neonatologia e questo è anche successo grazie a che qualcuno ha fatto questa formazione di base e sono molto motivati di applicare questo e che vedono un po' già che le consulenti PSE possono lavorare in quell'ambito e se noi riusciamo se se riusciamo a mettere a disposizione una consulente IBCE all'ECI allora vorremmo anche una consulente PSE a disposizione per le nostre famiglie è proprio pianificato di avere gente formata sul posto e guardando nel futuro che nella struttura stessa può essere essere fatte consulenze non che poi quando vanno a casa possono fare le consulenze ma le possono già fare lì all'ospedale al momento questo è un processo Thomas sì anche io penso che sia un punto importante sì io adesso abbiamo già parlato di tante cose diverse forse ancora una domanda che potrebbe esserci è che ci sono e l'avete detto un po' anche forse questo posizionamento di questo proietto negli ospedali con le vostre colleghe cioè era proprio nella promozione del legame non era terapia mamma bea o terapia del trauma si potrebbe dire che si poteva anche andare nella si poteva anche iniziare dal trauma del bebé perché c'è bisogno però come eravi lì la vostra decisione e cosa hanno detto psichiatri e psicoterapeuti cosa riuscivano a dire all'inizio si lo vogliamo o erano un po' critici Barbara si da psicologi e dal servizio psichiatrico e ancora sempre veniva la domanda cosa fate qui o le vostre competenze dove sono molto importante vedere quali sono le nostre competenze dove può esserci una collaborazione che ci toglie il lavoro diciamo anche che non ognuno dice no questa famiglia è solo mia e quello che allora quello che vediamo intorno al parto a chi di chi è la famiglia no dobbiamo pensare in modo più collaborativo e anche di cercare la comunicazione il colloquio era molto importante Lisa all'inizio si deve proprio dire che tutte le figure professionali si devono mettere diciamo in barca fare una cosa interdiplicinare e che anche così le diverse figure professionali si possono avvicinare se le metti insieme in barca e che abbiamo dovuto anche parlare col servizio psichiatrico abbiamo chiesto loro che ne dite del nostro PSE ma qua Lisa sa dire qualcosa di più forse tu hai bisogno di qualcuno che ti sostiene diciamo non vai lì e dici noi facciamo adesso questo e noi siamo gli unici bravi ma anche di vedere un po' ok dobbiamo collaborare è una rete quella di colare abbiamo bisogno forse Lina vuoi dire qualcosa Lisa sì questo era molto importante in questi lavori di gruppo abbiamo poi definito perché era importante che chi era responsabile del servizio psicologico e il responsabile del servizio psichiatrico che poteva vedere avere uno sguardo nei nostri nei nostri concetti di come lavoravamo li abbiamo presentato tutto e abbiamo quasi chiesto l'ok da loro quasi così abbiamo anche firmato perché veniva anche messo per riscritto che queste figure personali possono avere possono vedere i documenti che facciamo possono vedere quello che facciamo e questo era un rafforzamento diciamo alla fine per noi questo non significa che i singoli collaboratori sono schettici nei nostri confronti e guardano molto esattamente quello che facciamo però in questo punto la documentazione che facciamo ci ha aiutato tanto perché lì è proprio in evidenza di quello che facciamo e che noi non andiamo oltre le nostre competenze e che è molto importante vedere dove noi ci posizionavo e una mamma una famiglia che è in servizio viene che va dal psicologo psichiatra non significa che non può fare PSE noi ci offriamo comunque come consulente PSE ci offriamo di fare consulenze non è che tu puoi fare uno o l'altro le due cose hanno posto una vicino all'altro e questo atteggiamento ha trovato accettanza almeno nel nostro distretto sanitario quando qualcuno viene ricoverato per una depressione postpartale noi riceviamo l'informazione ci viene comunicato che è la signora lì e che la consigliante PSE va lì a questa donna e le parla e il bebè e questo è normale e questo fa parte di tutto Thomas questo proprio questo lavoro questo posizionamento di lavorare in modo interdisciplinare è molto importante e può essere un modello non è che uno toglie qualcosa all'altro questo magari lo devono vedere anche altri ospedali e questo posizionamento che possiamo lavorare in tanti ambiti e con tante persone volevamo stasera un po' far vedere cosa c'è scritto in questo libro lì potete leggere in un modo molto dettagliato i fatti per favore cercato di guardare a questo libro siamo contenti se lo leggete io grazie il cuore alla Barbara Elisa adesso il tempo è finito e non vogliamo rubarvi il vostro tempo ancora di più grazie a Barbara Elisa per vostra pazienza per il vostro lavoro di coordinazione lo so che avete messo lì tanto tempo adesso per noi sembra tutto così facile però a voi spetta un grande grande grazie è un progetto che fa molto coraggio e che ha fatto forte il PSE e come modello anche per altri è una buona energia che accede a questo è un tempo dove non tutto è sempre bello questo è proprio un raggio di sole da questo punto di vista grazie a voi due e grazie a tutti coloro che erano presenti e chi ha voglia ne parla nel prossimamente facciamo un altro intervista nella Global Empathy e lì potete anche ascoltarlo se volete a questo punto di vista che è un'altra che è un'altra che è un'altra che è un'altra